può rimproverarsi di aver giocato un primo tempo al di sotto delle sue possibilità contratti tesi nervosi squadra lunga poi dopo il gol ci siamo un pochino sciolti diciamo ci siamo chiaramente non c'era più niente da difendere abbiamo cominciato a far gira palla abbiamo cominciato a creare delle buone opportunità e poi cosa c'è da rimproverarsi nel finale siamo andati in porto siamo andati a tirare bisognava tenere palla una squadra esperta ci siamo sgolati alla panchina ma anche in campo lo stesso capitano ha chiamato più volte i compagni di squadra a tenere palla sulla bandierina è finita siamo in superiorità numerica se non teniamo palla poi si può di tutto se poi vogliamo vogliamo inventarci che cristo è morto dal sonno ma non è così hanno anchiodato quindi su 2 a 1 bastava tenere palla due minuti che mancavano i quattro minuti recupero c'è stata anche la sostituzione di bovo apposta per tenere palla per non rischiare niente purtroppo è venuto questo fallo che dobbiamo fare non possiamo cambiare il destino di questa partita dobbiamo cercare di cambiare l'atteggiamento e fare tesoro di queste di queste mancanze che che abbiamo avuto nel finale di gara è chiaro che adesso si vede tutto nero capisco la gente capisco tutti voi l'ambiente i miei giocatori ma da domani si riparte c'è ancora tante partite a giocare dobbiamo continuare col progresso di crescita progresso di crescita secondo me già c'è stato poi però tutto viene vanificato adesso con la vittoria staremo qui a parlare di una bellissima bella salernitana che si era riagganciata al treno salvezza però è dura per noi e dura per tutti dobbiamo continuare su questa strada messaggio positivo che dobbiamo dare alla gente io a miei giocatori i giocatori attraverso attraverso me la gente questo dobbiamo continuare a lottare da domani in altro giorno non possiamo far cambiare quello che è il risultato e quindi pur nella grande amarezza siamo gente di sport e dobbiamo continuare a lottare perché come dico sempre anche ai miei giocatori chi lotta può perdere che non lotta già perso